ciao a tutti amici youtube sono sempre io destroyer games ok e bene oggi sono qui con un video abbastanza corto dove vi spiego come installare minecraft forge per qualsiasi versione naturalmente faccio questo video perché voglio introdurre una nuova serie sul mio canale non mi svelo niente comunque fra un po la comincerò quindi vedrete allora cominciamo subito con il tutorial spero vi sia utile sono un po senza voce non so perché comunque a me allora vi lascerò un link in descrizione dove andare in questa pagina dove adesso vi spiegherò un po come funziona per scaricare forge allora forge per chi magari non lo sa molto bene serve per utilizzare la maggior parte delle mod molte mod per essere utilizzate hanno bisogno di forge quindi è molto utile allora prima di tutto andiamo ad aprire minecraft cosa che mi sono dimenticato a vi lascio sotto sempre nel secondo link come scaricare il mio minecraft launcher se non l'avete a pagamento comunque funziona per tutti i tipi di tutti i tipi di minecraft io questo e vi lascio anche questo nel caso voleste scaricare quando avete aperto questo launcher scrivete il vostro nome facciamo prova io adesso l'ho resettato quindi se c'è scritto lol non faccio non fateci caso fate salva nome andate sul vostro fate play una volta fatto play andate su edit profile scegliete la versione e per scegliere la versione sono importante due cose la mod che versione richiede ad esempio non so questa volta facciamo che la una richiede la mod 1.7.2 e dopo dovete andare a vedere sul sito se sulla 1.7.2 è disponibile la 1.7.2 in questo caso è disponibile quindi perfetto scegliamo la 1.7.2 facciamo salva profilo e play e qui aspetteremo che scarichi tutto adesso io ho resettato quindi non ho più la 1.7.2 per mostrarvi come funziona da capo poi andate sul sito scusate il lag sempre allora in questa cosa abbiamo scelto la 1.7.2 come vedete è scritto in grossetto invece nelle altre no quindi dovete andare sulla versione che volete cliccare sulla 1.7.2 e non succederà nulla e cliccate su installer ci sono altri modi io mi trovo bene con questo andate su installer e ci cliccate adesso vi rendere già in questa pagina in cui dovrete aspettare cinque secondi una volta aspettati qui in alto non so l'italiano che cliccate su scusate e fate salva file perfetto decidete dove salvarlo io ad esempio sul desktop adesso aspettate il download ok perfetto adesso che ha scaricato come vedete qui forge 1.7.2 e ha caricato la versione 1.7.2 è molto facile cliccate su doppio clic aprite il programma fate install client cliccate su ok sarà molto veloce l'installazione dovrà scaricare alcune cose ok adesso che è stato installato cliccate su ok adesso andiamo a riaprire minecraft esegui aspettiamo un attimo perché ho il pc lentissimo ok come vedete se adesso scendete una volta riaperto minecraft se scendete in basso uscirà 1.7.2 fuori fate salva fate play e adesso dovrebbe crearsi un nuovo profilo dove potrete mettere dentro all'interno della cartella che si crea in punto minecraft le vostre mod che supporteranno la versione 1.7.2 adesso andiamo subito a vedere una volta che si è caricato ok perfetto adesso si è aperto come vedete ci saranno già tre mod ma sono essenziali da lasciare e che servono appunto per far funzionare forge se noi adesso andiamo su percento data percento sempre sul menu start e apriamo si creerà la cartella mods apriete la cartella all'interno come vi spiegherò nei prossimi video che penso avrete già capito vi spiegherò come inserire le vostre mod e farle funzionare come al solito vi chiedo di lasciare un bel pollice su se vi è stato utile e invece se il video non vi è piaciuto e volete mettere un mi piace vi chiedo di lasciare sotto un commento con i problemi che avete riscontrato in questo video e iscrivetevi se non lo siete già per tenervi informati sul mio canale vi chiedo come al solito di andare se siete dal cellulare nel mio canale e cliccare sulla campanellina così ogni volta che caricherò un nuovo video vi sarà segnalato subito subitissimo nel vostro cellulare insomma spero come ho appena detto che il video vi è piaciuto e ci si becca al prossimo video da le storie di games e dunque bello